Signori, bentornati all'angolo della tensione Mi stavo scozzicando Che stavi facendo? Mi stavo scozzicando Vabbè ma tanto non si vede, sei lontano Mi stavo scozzicando Vabbè Comunque Ogni tanto Ciao amici Anche gli youtuber si scozzicano Ciao amici, mi stavo scozzicando Comunque Start Eh? Madonna E... No, i... I quattro cosi luminosi A rombo Che cazzo vuol dire? Eccolo qua Che cazzo devo fare qua Devo pentilare tutto Io non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Uno dei quattro colori lampeggerà Usando la tabella corretta Premi il bottone con il colore corrispondente Rosso sta lampeggiando Move it Allora Premi il blu Premuto Questa lampeggia? Rosso o giallo Tutti e due? Sì ma io devo fare una cosa importante Mi ventilo Io non so che cazzo significano le ventole Le? Le ventole non so che significano Come le ventole? Leggi le ventole Non so cosa siano le ventole Craccare un computer è un lavoro arduo? Beh lo è di solito Questo compito potrebbe essere svolto da un canarino ubriaco Rispondi alla riga di comando del computer premendo yes per il sì Oppure n per no E quindi? Basta Eh ma che gli devi rispondere? No Allora Quinta riga Terza colonna Quinta colonna Primo rigo Ok allora Dove sei? Sono alla prima colonna Il quinto rigo Quindi qui Ok Allora Scendi giù proprio in basso In basso Massimo Sì Ci sei? Sì Vai a destra 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 Sì Ora vai su Su Sì Ora vai sinistra E giù Sinistra Sì Ora risali su Sì Destra Sì Su Su Sì Destra Su Ma perché mi fai fare quella? Devo arrivare in basso a destra Allora non ci siamo capiti quale cazzo è il labirinto Devi fammi arrivare tutto in basso a destra Cioè è giusto quello che c'hai tu ma fammi arrivare in basso a destra Destra Giù 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 Sinistra? Non era giù 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 Era giù giù infatti Tu hai detto giù 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 Ma perché ti devo far arrivare in basso a destra? È perché è quel cazzo rosso che devi prendere Non dentro i cosi verdi I cosi verdi servono soltanto per indicarti la Eh io non so dove sta il coso rosso Eh me lo devi dire perché io non lo so Io non lo vedo Io vedo soltanto i due cazzareri Allora è la stessa di prima E sto allo stesso punto iniziare di prima Quindi quinta riga della prima colonna Devo arrivare alla Seconda colonna No quinta colonna seconda riga Sotto il coso verde devi arrivare Sì Ok allora giù Destra 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 Su 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 Sì Destra su No destra su arrivato Ok Allora rosso mi si sta accendendo E non ho una vocale Rosso mi si sta accendendo e non ho una vocale Aspetta eh Su su Madonna Madonna Ma lo trovo Ma lo trovo Ecco Perché in una situazione si Eccolo Vuole esplodere Ecco allora dicevamo Lampeggia in Mammi da rosso E vocale Senza vocale Allora Blu Premi blu Rosso blu Blu giallo Blu Rosso blu Rosso Blu giallo blu Rosso giallo Rosso giallo Scusami Rosso blu Rosso giallo Blu giallo blu rosso Ok le password inizia con la F La password inizia con la F Dai Sempre entro l'anno Eh lo so lo so Eh ma non la trovo cazzo Dove sta? Sono tranquillo perché Eccola eccola La facciamo eh vero Eccola qua Dimmi F S In gula mamita T F Tieni F Vai la seconda R L Y H N Z R L Y V No no Rimetti Rimetti l'altra lettera L'inizio S R Vai con S S R L H N S R L H N Sulla prima Sulla che Sulla seconda Sulla prima c'ho la S Mi hai detto tu Cambia la Anche la prima Te lo sto a cambiare tutte quante W D Vai con la W W W H E Ah H W H I Sì C Dammi una C Dammi una Witch Sì L'ho dovuta arrivare Eh abbiamo provate tutte Qua si può Si può A 20 secondi dalla fine Si poteva fare molto meglio di così Molto meglio Però ce l'abbiamo fare Comunque questo è più facile rispetto a quell'altro dei cavi Erano 40.000 Cazzo di motori Qua la rottura di palle e quel gas Sì devi vedere tutte le volte che prendi vent Vent Va bene ragazzi abbiamo salvato un asilo nido Purtroppo è l'asilo nido di Hitler E siamo Abbiamo Potevamo uccidere Hitler prima che diventasse grande Però vabbè Comunque la storia pure è importante Meglio così No no nel senso Però la storia deve andare in un modo Dai vostri artificieri preferiti Ora Ci impegniamo a non riprendere in mano questo gioco Per almeno un altro mese Così Avrete grandi emozioni Anche la prossima Facciamo schifo Facciamo schifo